Quello dell'amianto di Eternit è un problema che riguarda tutto il paese, da nord a sud. È dovere dello Stato e mio personale di far sentire una parola di conforto, di stare vicino anche a tutti coloro che sono stati colpiti da questo fatto così terribile. Ci sono parecchie persone che sono morte e noi dobbiamo stare vicini ai familiari, alle vittime e a tutti coloro che possono e hanno ricevuto dei danni da questo evento. Dovremo pensare alle bonifiche, ai reati ambientali e a tutto quello che può essere utile per affrontare i problemi. Questi sono i temi che affronteremo con le vittime e ci sentiamo eventualmente dopo. Grazie. 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 Grazie.